Beh, per Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, il paziente non è soltanto l'utente finale, il cliente del servizio sanitario, ma è e sarà sempre di più, almeno questo è lo nostro l'auspicio, un soggetto importante e fondamentale per la messa in atto di un servizio sanitario sempre più rispondente ai bisogni di salute delle persone. Non solo quello che ormai da tempo, da sempre, anzi dal 2000 Cittadinanza Attiva sta affermando, è che la sicurezza, il paziente deve essere anche parte attiva dei processi di messa in sicurezza delle cure, perché solo attraverso questo rapporto che si può estaurare tra operatore, tra sanità, operatore sanitario e cittadino, sicuramente l'assistenza che verrà prestata sarà un'assistenza sempre votata alla cura della persona.